Seconda festa dell'USB, noi non dimentichiamo, Talsano, Taranto, Piazza, Lo Iucco, sabato 29 agosto e domenica 30 agosto. Siamo con il segretario provinciale di Taranto dell'USB, Francesco Rizzo, la sicurezza sul lavoro certamente, ma la questione ambientale. Una situazione ambientale che al di là dei tanti decreti sfornati, un mese sì e l'altro pure, non cambia purtroppo. Sì, sarà al centro del dibattito della nostra festa il tema della sicurezza e anche il tema dell'ambiente. Ambiente che anche rispetto a tutte le prescrizioni AIA in realtà poi alla fine non ha prodotto risultati significativi. Sì, anzi, non è oggi una bestemmia dire sostanzialmente che forse siamo anche arretrati rispetto al passato dal punto di vista della sicurezza in fabbrica. Ecco, l'ambiente quindi dovrebbe esistere, dovrebbe avvenire un coinvolgimento, una partecipazione anche dei nostri parlamentari, ma visti i risultati evidentemente a Roma noi non veniamo ben rappresentati. Beh, siamo arrivati al punto che credo che la questione della F2 poi sia un po' particolare. C'è lì, c'è chi vive in fabbrica e sostiene che comunque sono impianti da fermare, pericolosi, e c'è chi invece sta in Parlamento che leggifera in 30 secondi leggi che poi non tengono conto né della salute né della vita delle persone. Tanto non ci stanno loro in fabbrica. Infatti, questa è la mare realtà purtroppo. E allora, 29 e 30 agosto, tutti in piazza Loiucco a Talzano, intorno alle ore 19.